A fuorigrotta riprende l'attività della piscina scandone dopo i lavori effettuati per ripristinare e mettere in sicurezza la parte danneggiata dal cedimento dell'intonaco. Ricominciano così le attività sportive e tornano anche le gare del campionato di pallannuoto. Finalmente abbiamo riaperto, siamo riusciti a riaprire, anche in questo caso grazie veramente alla collaborazione di tutti. Era necessario effettuare dei lavori perché la piscina era chiusa dal 30 settembre, hanno lavorato bene e siamo riusciti a riaprire, spero, con gioia di tutti quanti, anche mia sicuramente. Ci vorrà invece ancora del tempo e del lavoro per riaprire la seconda vasca olimpionica costruita per le universiadi del 2019. Adesso il prossimo obiettivo è quello di aprire anche l'altra piscina, la Wormap, per la quale oggi proprio faremo il sopralluogo per capire quali sono i problemi e le difficoltà di apertura e quindi speriamo che nei prossimi mesi riusciremo anche ad aprire l'altra e a consentire l'accesso anche all'altra.